Lo sciapero dei ferrovieri sta riducendo fortemente la circolazione dei treni in Germania. La mobilitazione di 20 ore iniziata mercoledì sera per ottenere salari e orari di lavoro migliori ha fermato circa l'80% del servizio in alcune località, creando disagi ai viaggiatori. Eher nicht, wer weiß was dann passiert. Ob wir ankommen oder... Ja, ich kann schon verstehen, dass sich was verbessern muss. I negoziati tra il maggiore sindacato di categoria e l'operatore pubblico Deutsche Bahn, sospesi questa settimana, potrebbero riprendere a breve, ma si attendono altre difficoltà e nuovi scioperi.